Lorenzo Nardo Buffa è un ottimo giocatore per la categoria soprattutto. Siamo stati bravi a limitarlo e soprattutto a stare molto alti tutti e quattro in difesa. Il gol che ha segnato Buffa è stato un po' contestato. Avevate chiesto il fuorigioco come l'hai visto? Sicuramente eri più vicino di me. Secondo noi era fuorigioco netto, senza dubbio. Però l'arbitro l'ha vista così, è andata così e va bene lo stesso. Sei giovanissimo, abbiamo detto classe 2005. La cuoio pelli oggi aveva in partenza dal primo minuto addirittura tre giocatori in quota giovani. Un 2003, un 2004, un 2005. Raccontaci un pochettino la tua storia dove hai cominciato a giocare a pallone e come mai ti sei ritrovato in Toscana. Ho iniziato a giocare all'età di quattro anni in una squadra nel mio paese, la Virtus Gela. Poi a 14 anni mi sono trasferito a Catania, ho fatto l'Under 15 e l'Under 17 nazionale. Poi successivamente ho fatto l'anno scorso la primavera 2 con la Regina. Quest'anno abbiamo iniziato con il Siracusa in D, però abbiamo preferito mandarmi in prestito e quindi venire a giocare, fare minutaggio. La società crede molto nei giovani, infatti si vede che c'è chi merita gioca, il mister fa giocare chi merita. E quindi per quest'anno andrà così, il prossimo anno si vede. Benissimo, ti ringrazio e bocca al lupo. Grazie mille.